salve a tutti oggi vi faccio vedere come fare questo fiore questo fiore io lo sto per mettere su una bini alla fine di questo video troverete una link per fare i labini come fare labini e vedrete questo fiore che lo ha lo lo metterò con questa bini che effetto farà come vi ho detto alla fine di questo video troverete la link spero che lo proverete cominciamo con 4 catenelle 1 2 3 e 4 diamo alla prima catenella qui che lo chiediamo con una maglia bassissima adesso cominciamo con due catenelle costa servono come una maglia bassa e qui in mezzo dobbiamo fare 11 maglie basse e con le catenelle sono 12 allora dovete fare 11 maglie basse qui di mezzo e con le catenelle sono 12 continuate a fare una maglia bassa la riga pronta l'abbiamo chiuso con una maglia bassissima nelle prime catenelle adesso cominciamo con 7 catenelle 1 2 3 4 5 6 e 7 saltiamo una catenella qui andiamo alla prossima e facciamo una maglia bassissima 3 7 1 2 3 4 5 6 e 7 saltiamo la catenella andiamo alla prossima e facciamo una maglia bassissima e continuate finché avrete sei di queste sei petali dovete avere sei petali siamo arrivati all'ultima qui andiamo qui dove abbiamo cominciato e finiamo con una maglia bassissima mettiamolo incinetto qui finiamo con una maglia bassissima così e così come vedete abbiamo 6 adesso cominciamo adesso lavorare nei petali andiamo nella prima una maglia bassa e un'altra maglia bassissima 2 maglie basse una mezza maglia alta dobbiamo fare quattro mezza maglia alte una due tre e quattro una maglia alta altre due mezze maglie alte altre quattro scusate una due tre e quattro e due maglie basse una e due maglie basse una e due questa è la prima il primo petalo dovere fare lo stesso negli altri due maglie basse una e due quattro mezze maglie alte una una due 3 tre e quattro una maglia alta altre quattro mezze maglie alte una due 3 e 4 e 2 maglie basse 1 e 2 e dovete ripetere nei sei petali se i peteri dovete fare quello che ho fatto qui abbiamo finito la prima parte del fiore come vedete adesso io sto per usare un altro colore voi potete continuare con lo stesso colore ma io questa questo fiore lo sto facendo con due colori e stiamo per cominciare da qui adesso lo potete fare da qualunque petalo io sto cominciando da questa qui mettiamo il petalo così prendiamo l'altra lana diamo l'uncinetto così e facciamo uscire un punto 8 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 andiamo alla prossima pet al prossimo petalo lo mettiamo così giù andiamo qui nel punto e facciamo uscire un punto con una maglia bassissima altre 8 1 2 3 4 5 6 7 e 8 andiamo alla prossima qui e facciamo lo stesso lo facciamo uscire da qui e dovete continuare tutta la riga così 8 catenelle 3 4 5 6 7 e 8 andate nella prossima nel prossimo petalo mettete l'uncinetto così l'uncinetto è fatto uscire un punto e dovete continuare tutta la riga così questi sono pronti abbiamo finiti finito con 8 catenelle andiamo qui nelle prime diamo il qui e la finiamo con una maglia bassissima adesso cominciamo a lavorare nella prima il primo petalo qui e cominciamo con fare una maglia bassa dobbiamo fare due maglie basse una e due due mezze maglie alte una e due quattro maglie alte una 2 3 e 4 è una maglia altissima fare due volte la lana sull'incenetto metterle due volte se la prima o soltanto una adesso di nuovo 4 maglie alte ma gli altissima soltanto uno dobbiamo fare 4 maglie alte 3 4 due mezze maglie alte una e due e due maglie basse una e due questo è il primo petalo che abbiamo andiamo al secondo adesso qui a facciamo lo stesso adesso quello che sto facendo qui lo dovete fare in tutti i petali due maglie basse una e due due mezze maglie alte una e due quattro maglie alte una 2 3 4 3 una maglia altissima fare girare la lana due volte sull'incenetto altre quattro maglie alte 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 9 10 11 12 12 12 12 12 14 14 qui in mezzo mettere un bottone o qualche altra cosa un perle una perla come avete avete visto non era difficile da fare spero che avete capito quello che ho fatto che lo proverete ciao per adesso